C'è l'Italia teatrale del mondo e i toscanini di Podrecca, questa è l'opera lirica tradizionalmente fatta e la bellezza di Podrecca che porta alla modernità. Anche oggi se ci fosse la compagnia di Podrecca che gira, io ci porterei i miei nipoti, ci ho già portato il mio figlio, gli amici, ce ne trascinerei perché dicono anche polva, uuuu, eccomi, è questo. Grazie a tutti! Grazie a tutti!